Oggi facciamo il biglietto perfetto! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Ben trovati per questo nuovo video dedicato al Natale Oggi vi insegno a fare la card che tutti desidereremmo ricevere Quel biglietto che ognuno di noi avrebbe veramente piacerissimo a ricevere Scommettete? Scommetto anche che oggi risolvo un bel po' di problemi a nonni e zii che non sanno mai cosa regalare ai nipoti Venite con me sul piano da lavoro e vi spiego come fare una card che è anche un gran bel regalo Ed eccoci pronti per portare avanti il progetto più originale di quest'anno su Arte per Te È originale perché è una mia idea in toto e in secondo proprio perché è un'idea originale che mi è piaciuto un sacco Se avessi ricevuto io questo biglietto sarei stata veramente felice È il biglietto che tutti vorrebbero ricevere Cosa ci occorrerà per farlo? È un progetto che io sto facendo per la Bobbanni Ma ragazzi non vi preoccupate perché vi do tutte 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 le alternative assai più facili di questi materiali Che sono bellissimi ma che non si riescono a trovare in giro in Italia molto facilmente Allora innanzitutto ci servirà la sagomina di un alberello E questa ve la faccio trovare sulla mia pagina Facebook Il biglietto perfetto Allora cercate così e troverete la sagoma da scaricarvi Dopodiché una carta su cui fare il nostro biglietto Forbici Tagliabbalza E questi li abbiamo tutti Ci occorreranno poi un acrilico nero per dipingere la sagoma del nostro alberello E lo scotch biadesivo per attaccarci sopra le decorazioni Il nostro bulino Una penna per la scritta augurale E io in questo caso utilizzo un nuovo tipo di color brush che vi farò vedere molto presto Uno scotch spessorato Quelli lì con il foam interno che dà spessore Dei laccetti o dello scotch che accordi con la carta Io ho trovato questo laccetto così di risulta Questo scotch, questo washi tape Poi dei colori da bordo Io qui ne ho vari tutti nei colori dell'argento Voi li trovate innanzitutto qui se ve li volete fare da soli a casa Se li volete fare per lescenti a questa ricetta Aggiungete semplicemente o del glitter O un ombretto per lescente argentato Quello che vendono anche dai cinesi E vengono proprio uguali Oppure usate i colori da contorno che trovate in qualunque cartoleria Li vendono sotto questa forma o sotto questa forma Non ci vuole niente a trovarli in giro di qualunque marca E poi qua vedete questi Perché? Che non userò Non me ne frega niente Ma volevo farvi vedere la carta che li avvolge Mi servirà un pochettino di questo acetato Ok? Quindi non c'è bisogno che andiate a comprare l'acetato Nel negozio di belle arti Prendetelo anche dalle cose che avete a casa Questo ve lo faccio vedere Proprio per farvi vedere come la creatività può risiedere in qualunque cosa voi abbiate attorno E poi ci occorreranno dei soldi Sì, dei bruttissimi, miseri soldi Nella creatività possono entrarci anche loro Vi ho detto che questo è il biglietto che tutti vorrebbero ricevere E' un biglietto per adulti Perché sarà portatore di regalo monetario Quindi questo è un biglietto perfetto Come prima cosa io intaglierei il mio alberello Piccola annotazione Se usate il tappetino magnetico Naturalmente non dovete fare la sagoma sul cartoncino Ma fatevi la sagoma direttamente sul tappetino magnetico E fate l'alberello direttamente in magnete Quindi adesso piano piano ritaglio il mio alberello Ritagliato tutto l'alberello Dipingiamolo con l'acrilico nero Una bella mano copiosa E magari fate rimanere anche qualche strisciata di colore Dopo aver dipinto il nostro alberello di nero O di qualunque colore voi desideriate Appiccico sul retro delle mie monetine Un po' di scotch biadesivo Nel frattempo l'alberello sta asciugandosi Quindi facciamo anche senza sporcare i soldi Possibilmente Pieghiamo anche i nostri soldini Li pieghiamo a metà Quindi ancora a metà Poi ne faremo un altro di un'altra dimensione Quindi piegheremo i soldini Perfetto E abbiamo fatto anche un pacchettino Un quadratino di un'altra dimensione Ora prendiamo l'acetato Prendiamone un pezzettino E chiudiamo i nostri soldini All'interno dell'acetato Facciamo proprio un pacchettino Con la banconota Con un po' di scotch Ovviamente Chiudiamo Quello che avremo Sarà questo Ora dovremo rendere questo Un pacchetto regalo Come si fa? Si prende un nastrino Io l'ho qui di colore argento Si mette dietro un altro pezzettino Di scotch biadesivo Vi conviene Vi sbrigate prima Così per lungo A fermare il tutto Togliete la pellicolina Attaccate il nastrino E fategli raggiungere L'altra estremità adesiva Quindi togliete l'eccesso Adesso facciamo la fascia In orizzontale Nella stessa medesima maniera Quindi si attacca E si porta In là E poi al centro Facciamo un fiocchetto E questo è un pacchettino regalo Che poi metteremo sotto l'albero Ne facciamo così anche l'altro Arrivati a questo punto Preparo la mia card Che voglio sia alta 15 cm circa Ecco qua Prese le misure Tracciata la linea Taglio la porzione di carta Che mi serve Ripeto Voi fatela con qualunque carta Desideriate Anche una monocloma rossa Ci starà benissimo Quindi adesso Vedevo più o meno Senza grandi paturnie Prendere le misure Su dove voglio inserire Il mio alberello Faccio una card quadrata Quindi la farò 15 cm Per 15 cm Segno i 15 cm Nella parte bassa E nella parte alta Della card Con un bulino Senza sporcare la carta Tiro la linea Sul frontale della carta Devo fare l'apertura Per contenere Il mio alberello Perché l'alberello Voglio che stia All'interno della carta E non all'esterno Quindi con mezzi Di enorme fortuna Cerchiamo un cerchio Che possa iscrivere La circonferenza Più o meno Centriamo il tutto I nostri mezzi Tecchi Oddio sta crollando I nostri mezzi Tecnici ragazzi Che bellezza Lo faccio apposta Ad usare cose di casa Per farvi vedere Che non servono Tutti gli strumenti Per la creatività Non è Perché mi annoia Ad andare a prendere Il Il compasso No 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 Anche perché Io ho anche il compasso Che traccia i cerchi Quindi sapete Quanto sono buona Per questo Non perché mi annoia Prenderli No 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 Una volta fatto ciò Tiriamo via Tutta la circonferenza Impreziosisco Questa parte Della mia card Con Un colore Da bordura E userò Un colore Gommoso Di questi Della Bobanni Vi ho detto Qui vi dico come farlo Potete metterci anche Tanti brillantini Invece di fare questo Ok Ho fatto Tutta la mia Coroncina Attorno al cerchio Per rifinire L'apertura A questo punto Prendo lo scotch Biadesivo Ne taglio Tre pezzetti Prendete quello che avete E adagiamo il nostro Il nostro alberello Al centro del cerchio Ora Prendiamo i nostri soldini E piano piano Facciamoli con una pressione Aderire sul nostro alberello Mettiamo le palline di Natale Ma che belle palline di Natale E il mio alberello Di soldini E' bello e pronto Per essere regalato Adesso facciamo scendere in campo L'artiglieria Pesante Quindi Prendiamo Lo scotch Spessorato Una bella striscetta Un'altra bella striscetta La mettiamo accanto Perché vogliamo che Questi soldini Siano ben Ben Adesi E che non scappino via E mettiamo i pacchettini Sotto l'albero di Natale Uno qua E poi qui scriviamo Un prezioso Natale A Precious Christmas E vado Punto Finita Altra versione Che sto preparando E' questa Con la scritta Have a Precious Christmas E l'alberello invece Lo metterò qui Con i pacchettini dono Però siccome smonto questo E monto questo Per fare le foto Alla Bobbani Io vi faccio vedere Le due versioni La versione che mi piaceva di più Era questa Più ricca Più Bella E il resto poi Lo vedrete dopo Nelle foto A Precious Christmas Un prezioso Natale A tutti voi Vi auguro di ricevere Tantissimi di questi Bigliettini E nonne Dite la verità Vi ho risolto un problema Bene Vi lascio alle foto E ci vediamo a tutti E che sia davvero Un prezioso Natale Per tutti Indipendentemente Dalla pesantezza Del pacco Che mettete qua sotto Ciao a tutti Visto che bello è il nostro biglietto Perfetto E si ragazzi E' un modo più elegante Più fine Di regalare i soldi E anche un modo più simpatico Di riceverli Perché molto spesso Chi riceve la moneta sonante E' contento per il regalo Che riceve Però è un attimo Un po' freddo Quello dello scambio del denaro Ora 17 anni 16 anni Mi stanno dicendo Ma de che E' il momento più bello del Natale E invece No E invece no Perché così Avrete anche ricordo Pratico Di chi ha fatto qualcosa Per voi Oltre che piegare Quei soldi E regalarveli O appiccicarli Come fossero Delle palline di Natale E insomma Io vi auguro Mano mano Di avere anche Un albero intero Tutto addobbato così Ma soprattutto Vi auguro Che ci siano Tante persone Disposte A perdere Quei 5 minuti di tempo Per assemblare Una cosa Fredda Come il soldo In un qualcosa Di bello E pensato Come una card Ben confezionata Quindi Spero che questa Nuova forma Di scambio Di regalo Accompagnata Da una card E da un po' Di romanticheria Vi sia piaciuta Se è così Mi raccomando Regalatemi Un pollice in su Tutto tintinnante Di monetina Condividete Questo video Sulle vostre pagine Facebook E giratelo A tutti quelli Che volete Vi regalino Una cosa del genere Così questo video Diventerà virale Ovviamente Scherzo Vi ringrazio Tutti Per accompagnare Arte per te In questo viaggio Verso il Natale Ringrazio tutti quelli Che mi hanno regalato Un pollice in su Ringrazio tutti quelli Che hanno visto il mio video Anche solo per un minuto E tutti quelli Che vorranno passare Il periodo natalizio Insieme alla creatività Proposta da Arte Per te Non vi preoccupate Perché i contenuti Colti Stanno per tornare Sebbene La creatività È talmente una cosa bella Che anche la cosa più semplice Se si vuole Può diventare molto colta E allora Noi ci vediamo Sempre qui Per il prossimo video Buona preparazione A Natale A tutti Da Ombretta Ed Arte per te Tutto Ciao Alla prossima